Venerdì 14 maggio, presso l'auditorium del Museo Castromediano di Lecce, si è tenuto un seminario sul tema beni culturali e ambientali e pianificazione territoriale, a conclusione del quale sono stati riferiti i risultati del progetto europeo Spicosa, che afferisce al sesto programma quadro di azione ambientale su cambiamenti globali ed ecosistemi. Il progetto coinvolge 54 istituzioni appartenenti a 22 paesi europei. L'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR è responsabile del coordinamento scientifico. Il principale obiettivo di Spicosa è lo sviluppo di una nuova ed innovativa metodologia per valutare quantitativamente sistemi costieri complessi, attraverso un software, EXTEND, in un'integrazione bilanciata degli aspetti ecologici, sociali ed economici. Spicosa si propone di favorire la comunicazione tra i ricercatori e le autorità pubbliche e politiche in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali del sistema costiero. Questa metodologia operativa, denominata Systems Approach Framework, si propone di migliorare la qualità del trasferimento delle informazioni scientifiche alla politica, all'opinione pubblica e agli utilizzatori della zona costiera. Al fine di testare questo tipo di approccio in diverse aree di studio costiere, sono stati coinvolti 18 siti in tutta Europa, tra cui il Mar Piccolo di Taranto. Il modello di gestione del Mar Piccolo rappresenterà uno strumento utile per il miglioramento della gestione della molluschicoltura nel Mar Piccolo di Taranto, anche con lo scopo di migliorare l'uso sostenibile delle risorse finalizzate a varie attività. hanno relazionato la dottoressa Carmela Caroppo per l'Istituto Ambientale Marino Costiero di Taranto e la dottoressa Laura Giordano per quello di Napoli.